Ci siamo? Pronto pronto? Siamo in onda, ok. Oggi che giochiamo? Oggi giochiamo a Top Hunter, bellissimo, del Neo Geo. Però noi giochiamo la versione arcade, chiaramente, con la ROM. Voi già vedete il bezel che ho scaricato prima, cioè in realtà un pezzo fa. E niente, siamo nel 94, adesso voi mi sentite e attivo il gioco. Facciamo il ROM check. E ci siamo. Questo è veramente figo. Ascoltiamo l'intro del Neo Geo che ci gusta. Abbassiamo un poco. Fino a meno 5 dB. Ah, io lo faccio a parte, 100 Meshok. Ok. Anche lo stile, vedi, molto grezzo. Ma no, questo ha un volume altissimo. Abbiamo altre dotacche giù? Sì. Un stile molto, come posso dire, anche con la scritta sembra, appunto, mi ricordo anche in The Hunt, per dire. Ecco, questa parte è la demo del gioco. E noi adesso andiamo a giocare. Allora, no, sì, però per dire, ok, il player 1 è per forza Roddy e il player 2 è per forza che? Dà delle similitudini con altri giochi. Ah, vero. Ok, l'ho settato. Perfetto. Ah, pugno. Se lo tieni premuto, puoi fare, appunto, il grab allungato. E puoi lanciare cose, tra cui oggetti e nemici. Intanto che c'è il tutorial, guardo la chat, se è tutto a posto. Sì, poi puoi cambiare lane, come Fatal Fury, essendo, appunto, anche, poi, della stessa marca. Iniziamo dal forza, ci sono quattro pianeti, noi iniziamo da questo molto basilare. Ha le vibes, molto da Metaslag, infatti dicono che quasi sia il predecessore. Ma anche molto Gunstar Heroes, come stile, assolutamente. Ok, com'è che si cambia lane? No, non mi dire che... ecco. La devo impostare, adesso... No, sì, niente, la devo impostare. Ah, vedi, non ho fatto il solito check. Allora, lo faccio adesso, perché sennò... Così, almeno, vedete anche un po'. Voi andate sulle opzioni. Del Mame, e... Player 1... C... Dice che è uno di questi, ma non è vero. Perfetto. E il D... Facciamo che è questo. Perfetto. E let's go. Ok, ora posso cambiare lane. Let's go. Era molto carino, mi piace un sacco lo stile. Anche questo molto cartoon. Va? In famono. Non me lo ricordo per niente, è tipo dieci anni che non ci gioco, quindi ci sorprenderemo insieme delle cose. Allora, questa è dall'altra parte. Ecco, già sono morto. Ah, c'è la barra che ti indica il boss. Ok, a me posso colpire i nemici cambiando lane. Lui è fighissimo. Avevo disegnato un personaggio, poi ispirato a lui, che ha queste forme, queste shape molto tondeggiante. Qua c'è nient'altro interessante, no? Ah no, posso salire invece. Esatto, abbiamo dei veicoli, appunto, anche qua molto simili a metaslag da guidare. Questo faceva anche su, vero? Cambia lane lui, sì. No! Allora ci vado da solo, di l'altra parte. Non mi sto rendendo conto della vita. Sai che non mi ricordo assolutamente il power up qui? Vabbè, chissà quanti tipi ce ne sono. Lui butta giù e schiaccia gli avversari. Vabbè, lui grabba di default. Questo cos'è? Un fucile per chi? Per il mech? No, era per me. Là c'è una leva, sono curioso. Ah no, ok. No, bellissimo il triceratopo dietro, però è fisso purtroppo. Vabbè, ci sta. Qua qua devo colpire lui, il motore, vero? Immaginavo, mi ricordo. Sì, anche lo stile quello di giapponese è un po' vecchio, un po' yatta, ma non so. Ci abbiamo quei predatori del tempo, non so. Mi ricorda quello stile lì. Qua cado? Buici però, ah beh sì. Non mi ricordavo se ci fossero i burroni in questo gioco. E siamo al boss. Non sembra molto abile, ecco. Invece sì. Ok, lui può fare solo le prese. Ok. Bello sto scenario. Va? Ah no, un minimo di combo la fa. Oh no, non ho fatto in tempo andare via. Se io faccio, cambio lane qui, no, la spacco. Qua no però, infatti. Ma mi infligge danno. No però, sono tornato lì. Questo mi ricordo che giocavo alle me... No, all'elementare addirittura. Con un amico mio ci divertivamo un fottio. Si può dire? No, niente. Se vai... Se ti collidi a mezzare, allora c'è un UFO. Sto sfruttando un po' con la meccanica di raccogli oggetti. Un po' come Clunua. Clonua. Clonua, non so. Oh bello, c'era il pericolo. Yazard. Che bello il rimbalzello. Questo ho visto, prima è uscito bene il 94, ma c'è avuto un sacco di riedizioni, anche tipo per Play 4, cioè non so in che collection. Ecco, finalmente gli diamo la pistola al cucire. Oh, dove è andata prima? Niente. Però abbiamo il super veicolo. Via. Comunque, similitudini con Gunstar Heroes, era più, secondo me, lo stile grafico, un po' il mood, anche che selezioni il livello, mi pare che anche lì potrei scegliere il livello. Era quello sparatutto della Treasure, su Mega Drive, ho giocato su Mega Drive. Poi dopo, per Game Boy, c'avevo il Super Gunstar Heroes, che però mi piaceva di più quello classico. Oh, bellissima, ok, no, non avevo visto la leva. la casualità. Perfetto. Ah, ok. La casualità mi ha fatto vincere. perché non la vedevo dall'altra parte. L'immaginavo, eh. Si vede tutto bene, sì. C'ho casa mia che è buissima, cioè c'ho proprio tipo una finestra sola ed è lontanissima, quindi anche... Se oggi sto registrando, ora è un po' tardi, adesso alle 6 e un quarto, ma purtroppo devo usare delle luce artificiose, mi dà fastidio, cioè non mi piace troppo. Qua chi c'è il boss? Ah, beh, è vero, perché ancora siamo... Non è quello di prima, vero? No, è un'altra. E gli le lanciamo, ok. Sempre usa molto la meccanica della doppia lane, e noi cambiamo. Ok, se no non posso infliggere danno noi. Oh, beh, ah, è vero, potrò fare così. Anche un po' one-piece-oso, eh. Poi, in verità, ho letto che nella versione Japan ha diversi finali che poi hanno rimosso, infatti io, da che ho memoria, non mi ricordo grandi differenze. Poi dopo vi spiego come si fanno, perché l'ho letto prima. Aurora Valley. Posso prendere il rimbalzello, no? Guarda come si scivola qui, eh. Guarda dove si creano, non capisco. C'è un effetto strano a sto livello, eh. Passo io che ci vedo male. Oh, il direzzo cosa c'è? C'è un vehicle. Quello che cosa cambia? Ma anche prima usciva il bussolotto Sai che non mi ricordo Questo attiva i pericoli, no? Solo per il punteggio Ma bellissimi stiglietti Ah, ma io non capivo in che lane Forse Bellissimi sti boss Sprite veramente eccezionali Super grotteschi Dai Ah, è vero, poi lui si allunga come Ruffy Ecco perché me lo ricordava No, io perché parlavo anche più dello stile In generale Però non c'entra niente Perché qua stiamo Parlando di un periodo antecedente Adesso non mi ricordo quando è iniziato One Piece Ma lì cosa c'è? Si può sbloccare in qualche maniera Oh, sì, attenzione Un segreto Un segreto Ah, questo Ecco, eh Che pensavo Un buono stage addirittura Breve ma intenso Mi tocca stare così Perché ho paura che non si sente Questo Microfono Oh, due followers Chi siete? Identificatevi Non avete mai giocato a Top Panther Per Neo Geo Bellissimo Qua com'è che Devo togliere lo scudo? Ah no, forse quando No, io voglio capire Senza No, senza barare Come si faceva No, non capisco Io passo qua Che me frega Ma questo non è quello di prima Non sto capendo Ma il mostro dov'è? Scusa In che lane Lo stradisco cambiando lane Questa cosa del cambio lane C'è un sacco di giochi Perché ultimamente Stavo giocando anche Come si chiama? Kizuna Encounter No, quello prima Savage Rain È tutto basato su Sul cambio lane Anche il real bout Vabbè, Fatal Fury Tutta la serie Anche il real bout Ma io posso salire su questo No, per pochissimo E si bastono così Dai Dai Wata, wata, wata Stun più combo Ok Penso che possa Tirare pure una token In che senso Conosci qualche trick Segreto Babus Taratarataratarataratar È bello che ci stavo provando Oh È vero Grandissimo Non lo sapevo Con la mezzaluna Fighissimo Infatti mi dovevo leggere Sì, sì È questo qua Grande Grazie mille Sono proprio Guarda Io quando scopo ste kick Sono proprio contento Perché in verità Me le ripasso un po' Infatti dovevo vedere Se c'era una wiki A più Come dire Una wiki Con tutti i moveset No Quindi ecco Quindi magari Il nemico di prima Si poteva sconfiggere In questa maniera Adesso lo spammo La rotella Guarda che roba Fighissimo Ma forse da piccolo Mi era uscito Una volta Ottimo Cioè Mi hai svoltato Mi hai svoltato La giornata Così Invece Allora Che etico Che mossa Ci avrà Cambiamo lane Un attimo Vabbè Solo bonus Ouch Soldi Su soldi Ah si Ok Uno sarà stato fake Infatti E anche aereo Ah no Però fa questo Questo come si fa Sempre Con la mezzaluna Fa questo pugno Esplosivo In aria Però Ok Oh Poi lo scio Yuken Hai visto che roba Farò là Per car Ma però Ma però Non si dice Innanzitutto Però non ho fatto Il comando Vabbè Adesso ho Questo Hai capito Però non ho fatto Adesso vedo Vedo bene Non stavo provando cose Niente Questo è tipo Super ghost And goblin Però pensavo Facesse male Pure a me Ok Ok Ma è difficile Fare L'upper cut Diciamo Lo pseudo Shoryuken Plasma Buster Power Ah c'è anche Con gli altri Tasti Copiata Da un sito Sliding Ah questo Lo fa pure Più grosso Col potenziamento Ma questo Avrà diverse cose Da fare Quando sono a bordo Fa qualcosa No Dueling jump Giù e a Addirittura Un attacco a carica Mi pare D'haver letto Tipo Guile Oh Cos'è Finisce il tempo Oh Va là Ah vero La scivolata È così Con il salto Cavolo La Duken Il plasma Buster Anzi Adesso che sappiamo Il nome Con il potenziamento Toglie molto Al boss Guarda che roba Uno Due No Com'è che Non l'ho letto bene Ah Uno Due Uno Uno Due No Atomic bomb E Oh Il power wave Incredibile C'è un sacco di mosse Sto gioco Fighissimo Vabbè Adesso eliminiamo Il boss Ecco Non così Ah no Pensavo di potergli Infliggere del danno Ok Ah no È un po' più invincibile Ok Quindi abbiamo Plasma Buster Abbiamo fatto La La rovesciata Il power chaser E quello che ho fatto adesso Che sarebbe La wave Bassa During jump Giu e A A me pareva Che ne era Giu e A Però E poi 1 2 2 Secondi Ok 1 2 Con B Vero Ah no No Non lo Aspetta Rolling attack 1 2 Boh Non lo so Non so Il personaggio a carica Sull'orchid stick È difficile Cioè Quelli verso l'alto 1 2 Boh Sarà questo No Questo è il salto normale Ah no Basta giù e A Però Perché a volte Non lo fa Ok 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 Oh va Eh devo saltare prima Bello un bel posto scenario Con le catene Isole concatenate Aeree Dai Uno due Uno due No questo è avanti Questo è indietro Non lo so Ah questo me lo ricordo Non lo so Non lo so Che cosa succede alla fine del tempo? Mi da time over ma dove mi fa ricominciare? Ah vabbè da qui Se no sarebbe stato un problema Non è mai successo Vabbè noi stiamo sperimentando Scoprendo cose va benissimo Insomma Non ho tirato quella giusta Come mai Babus rigiocavi A Top Hunter Dove ci giocavi sull'emulatore O hai un Neo Geo Vabbè no questo è all'infinito Devo avanzare C'è sempre questo Sì prima c'è il pirata generico Poi il boss Sì lo impallo qui Sconto sulle catene Bello C'è chi li raccoglie più gli oggetti C'è lui il mio nuovo personaggio preferito Possono metterlo nel prossimo Capcom contro SNK Ma che roba C'è il gioco si risolve subito C'è il gioco di più C'è il gioco di più Ah la Apparante Basta Basta Oh no Resettando ho perso Ho perso la chat Nel senso Sul telefono Vabbè Però me ne ricordo le mosse Non riesco a fare quelle a carica Poi ho letto una così E poi giù Come era giù avanti Uno due Non so Ah ecco Quello è rolling attack Me l'ha venuto Ah ho capito Mi vogliono far cambiare qua Ma è forte anche la scivolata Tipo alla Megamen Tempo abbiamo visto Preziosissimo Oh non ne fa più Ah ok no Strano che nel moveset Non c'era scritto Premere ripetutamente Attacco Per fare i pugni Veloce Oppure si Non mi ricordo Ecco Prima non ci dovevo salire Ecco adesso si Veloce Niente Voilà Guarda che caldo Vedo l'ora Di poi di aprire tutto Sennò non sarebbe un'estate Almame Giustamente Comunque dopo i video Si possono recuperare Sul canale Yamazuma Su youtube C'è tutto scritto Sul profilo twitch Gli episodi vecchi Quindi Non vi preoccupate Oh lui è grande Power up Power up Power wave Non muore? Ok Mi sento che sta tutto arrampicato E per parlare qua Ok, let's go Che era il boss? Non mi ricordo la faccia all'inizio Comunque loro sono dei cacciatori di taglia spaziali Roddy e Katie Questi sono la banda dei klepton Ah, questi me li ricordo Aia Non sono nella lane giusta, vero? Ok, no, è per capire No Cavolo, non c'è neanche il tempo di sorpassarlo Vabbè, toglie tutto tantissimo Ah ok, adesso posso colpire direttamente lui Mi pare Qua farebbe comodo Il rolling attack Ma schioppa, no? Ah, su di lui non... Su lui non avevano effetto, non lo so Guarda dietro, bellissimo Mi stavo perdendo il clue Questo è molto hardlock La nave sopra Hardlock non quello originale Perché dopo hanno cambiato il design della... Dell'arcadia Esatto, quel mood lì Un po' cartone vecchio Si Giapponese Oh, lui è fighissimo Strange Cave Alla cava strana andiamo Oh, pure involontariamente Io questo non ho capito Si Neanche con... Oh, con questo muori però Testa di cavolo Ah no, io furbamente No, sai cosa faccio? Prima vado qua Sicuro si rompe qui No Niente, veramente Aveva un segreto Invece no E vedi che poi sbuchi da là Chissà Forse con qualcosa di più potente Tipo questo Proviamo Ah, che stupido Non ho visto il palo No, neanche Boh C'è un nuovo Il nostro amico Però stavolta In colorazione Gialla Riusciamo a incastrarlo qua No, sono veramente scoperto Di aver scoperto Scontento di aver scoperto Questa kick Ah, io ci Oh Ah, infatti sembrava uno sprite Un po' strano Che si muoveva Bonus stage secreto Taci miserabile One up Si stiamo giocando Comunque Sotto c'è scritto level 4 Che il livello Di difficoltà sarebbe Che vanno da 1 a 8 Per i giochi Neogeo No, è questo Eh sì, io sto qua E mi spammo Io doken Ah no, basta semplicemente Saltarlo Ah, lo è da dietro Si può buttare giù Perfetto Da davanti no? Sì, anche da davanti Sì, anche da davanti Maia Nanto il mech Non riesco mai a prenderlo Ah, quanto danno No No Questo mi devo abbassare Sicuramente A post Congratulations Congratulations Si chiama Louis Bohen Barburn Di cave il Nicoli Qui c'entra Non ci sto capendo niente Sto facendo a casissimo L'ultimo pet Quest'ultimo Oh, qua tu cosa scavi C'è qualcosa di Segreto Perfetto Perfetto Disarcionato Tempo che abbiamo visto Molto importante No Questo me lo ricordo Stupendo Ma come si attivava Ah no Perché c'è un Mi sa Una sezione Di inseguimento Comunque è bello Che cambia colore Quando passi Dietro Perché giustamente Le cose in background Hanno meno contrasto Che cambia colore Ma come? Oh! Ma io qua mi sarei potuto salvare in caso. No, vabbè. È appena definito. Boss, let's go. Comunque è classicone, ogni stage è un elemento. Con il mega boss e poi dopo finiti questi ci sarà ovviamente il boss finale. Come era poi anche in Gunstar Heroes, se non ricordo male. Questo, eh? No. Sottobraccio non va. No, non lo... Ah, ok. Ah, no. Forse sul viso e basta, è vero? No. Ah, no. Proprio quelli devono colpire. Sì, però questo è una strada difficile. Ah, lì devo cambiare lì. Ok, ok, ci sono. Allora, solo ribalzandoci addosso. Allora, solo ribalzandoci addosso. Oh, ma non cade più la testa. Ah, e la devo far scontrare. Non capisco, veramente. E' due ore che gli sto... Solo la testa? Allora... Allora, non ne devo che l'ho capito. C'avevo ragione all'inizio, lui, guarda. Oh, a registrare e giocare rende un po' stupidi, eh. Ok. Non mi ricordavo c'erano i boss che devi sconfiggere con un criterio, eh. No, perché... Sembrava che prima l'avevo colpito all'inizio e non pariva passasse. Oh, eh, che roba. No, no. Ah, è morto da solo? Figuraccia proprio. Ah, semplicemente... Ok, vediamo che succede. La pseudo Arcadia cosa fa? Ah, noi abbiamo una stranata che è comunque molto figa. Eh, giustamente Great Clapton, che è il capo del clan Clapton. Roddy, questa è proprio la mia, ma penso che Katie stava dietro. E devo far cadere per forza questi, fammi capire. Ecco, il mood è anche, ecco, ho trovato un altro elemento, è anche molto porco rosso. Infatti, mi sarebbe piaciuto disegnare una storia con questo stile, con i pirati spaziali e roba così. Con queste che, appunto, personaggi un po' così... Oh, questo è incredibile. Sì, sto arrivando. Allora, di qua, vado. Sto facendo un casino, vabbè. No, dai. C'erano. Questo è molto Splatter House. Anche quello lo vorrei portare, ma è molto difficile. Perché poi se perdi, non ricominci dal luogo stesso. Uno di quei giochi che sono difficili da portare. Poi se devo spiegare tutto mentre parlo. Poi, non so, fino alla certa ci arrivo senza morire, per carità. Giochi tipo, appunto, Toki, Splatter House sono difficili da portare. Ho anche i picchiadurro, perché magari ci incagliamo al boss finale, che una volta erano straforti. Oh, ma questo è tosti. No, mi ha fregato. No, mi ha fregato. Ma pure così ti frega, lui. No, c'era uno che si arrendeva, li voglio andarci. Rocchetto punch. Rocchetto punch. Ah, io c'è il tastino. Adesso c'è il solito mid game. Boss di mid, di metà livello. O no? Ah, prima vi stavo parlando di finali alternativi. Esattamente. Adesso dobbiamo riaffrontare tutti i boss principali. Non quelli di metà livello, che è sempre il tizio, no? Nella versione giapponese, appunto. Se tu li finisci con una certa mossa. E da qui ho capito, da quando mi sono state spiegate. Ma che mosse ci saranno mai? Puoi vedere un... Addirittura cinque finali, mi fai dare capito, no? Lo tankiamo un attimino. Però... La versione che stiamo giocando noi non accade. Quindi... Ok. Poi c'è questa qua. Ok. Che me ne frega delle robe. Dopo che sono le mosse posso... Spammare a Duken e così... Ah no, guarda. Però se è di chiesa, eh. Plasma Buster. Fighissimo. Cioè, alla fine però non sono come li abbiamo affrontati in origine. Hanno un veicolo... Emulano, sembrerebbe il primo boss. Che era il quarto, lui. Eh, però... Queste le posso prendere al volo, no? Beh, queste proprio sciottano, eh. Oh, sì. Queste sì. Infatti pare che era strano. Queste si saltano. Però queste si... Ah, io non l'ho viste. Le quelle si prendono. Poi è bello che dico, dai. Voglio giocarci come se avessi crediti limitati. Non è vero. Ho fatto... Ho fatto schifo. Oh, il baron... Buon sbaciucchio. Solo la testa, immagino. Va? Ah, che gli devi rubare. Bello. Già ho capito. Sì, però... Tutti... Tutte le mosse sciottano, praticamente. Cioè, se tu la prendi al volo... Guarda che roba. Non me lo prende, vabbè. Adesso come prendo quelle rimanenti, però? Devo premere al momento giusto mentre scendo. Oh, che range c'ha. No, niente. Devo prendere le ultime due. Ah, si è ricaricato. Quindi posso solo sconfiggerlo... Con le sue sfere. Anche perché... Penso di sì, eh. Oh, va, sono rinato adesso. Un attimo. Ah, no, però vedi? Però con i pugni... Con i pugni sì, con il braccio allungabile no. Comunque invece Katie non c'ha il braccio allungabile. Non ha questa similitudine alla Bionic Command. A parte che lui non lo può usare come Liana. Ah, una catena con una sfere, tipo una Morning Star. Incredibile. Addirittura fin laggiù. Come si fa? Oh, qua c'è la versione giapponese. Quasi un giorno toccherebbe tentare di fare il finale. Oh, attenzione. Giustamente non è la finita, eh. Ehm, deflette i miei... Attacchi. Non è possibile, è fortissimo. Ma com'è che si stradisce? Così? Valà che non mi fa danno quando torno in lì. Non ho capito la vera... Cioè, come se io facessi così, per dire. No, vince lui. O magari perché ha avuto fortuna. Vediamo se io cambio adesso. No, vince... Fa quello in automatico. Forse potrei usare... Perché non fa? Ah, è giù e A, semplicemente. Prova, è il Shoryuken, ne? Vabbè. È andata così. Oh. E questo era Top Panther. Adesso non mi ricordo. Penso sia finito qua. Oh, ce la facciamo? Ok. Oh, sì. Il nome, il nome. Era... Quindi siamo nel... Già mi sono scordato. Quando è uscito questo? Ah, nel 94. Allora mi ricordavo bene, sì. NeoGeo. In questo caso Arcade. Perché ricordiamo... Erano le stesse... Cioè, NeoGeo è anche Arcade. Proprio il classico stile giapponese vecchio. I cattivi, tutti bruciacchiati, che svolazzano, come Yattaman. E alla fine tutti contenti, tutti vivi. Va luo con la parrucca del baron. Bellissime le illustrazioni a lato cabinato. Proprio quello stile è molto bello. Scenari anche molto ispirati. Sono molto diversi, comunque. Peccato, esatto. Come al solito, i nemici, sempre poca, poca varietà. Shibapu. Chi è? Jojo Hakitapi. E gli alieni? È vero, c'è un UFO, una certa. Kawasaki poi è quello che ha fatto un sacco di roba, producer di un sacco di roba SNK. Mi pare anche Meta Slug, appunto. The future is now. Ok, questa è la top hunter, Roddy e Katie. E questo episodio finisce qua. Intanto metto pausa con questo, perché sennò... E mentre tolgo lo streaming, ci vediamo prossima volta. Grazie Babus che ci ha fornito un sacco di informazioni, quindi abbiamo scoperto anche le mosse nuove. Sono stato super contento. E ci vediamo domani per il nuovo gioco, fino a mercoledì. Poi giovedì, pausa, perché sono via. E poi si riprende lunedì con un'estate al mame, bom. E potete vedere tutto indifferita su YouTube. C'è il link sul canale Twitch, senza che vi dico il nome. E bom, ci vediamo. Ah, la tricamera sarà anche abbassata, ma almeno avete visto l'Arcade Stick. Buona, ciao ciao. Ciao.